L'accoglienza dello straniero dalle supplici di Eschilo alle immigrazioni dei nostri giorni è il tema che è stato scandagliato ieri nel corso di un incontro dibattito promosso dal Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia preseduto da Flora Montana Santa Maria. L'evento si è tenuto presso l'aula magna dell'Istituto Comprensivo Statale Enrico Mattei di Gela e rientra nel piano delle attività e delle iniziative programmate dall'Istituto. Come ogni anno l'Istituto Mattei prevede un tema centrale, articolato e sviluppato nei diversi ambiti disciplinari. Quest'anno il tema centrale è stato identità e integrazione. Ci sembrava opportuno accogliere l'invito e far sì che questa giornata fosse una giornata di riflessione più per gli adulti, perché i ragazzi hanno riflettuto abbastanza tutto l'anno. Io personalmente partirò dal concetto di Xenos nella sua doppia valenza di ospite ma anche straniero, ma nell'antichità lo straniero era sacro, era inviolabile, era una volontà divina di Zeus. Poi col tempo è cambiato, l'ospes è diventato nostis, quindi è diventato un nemico, è diventato ostile, è davvero diventato uno straniero. Noi vogliamo dire invece che essere straniero vuol dire che la diversità è sicuramente un arricchimento per la comunità. La Sicilia che è sempre stata terra di approdo, terra di accoglienza, che oggi vede tanti disperati approdare nelle proprie coste in cerca di un futuro migliore. A noi è sempre opportuno parlare di questo fenomeno per seguire anche e ascoltare l'invito di Papa Francesco, educare i giovani soprattutto ma anche le popolazioni all'ascolto, all'inclusione, all'integrazione. E straordinariamente Eschielo 2500 anni fa scrisse una storia che potrebbe essere raccontata tranquillamente dai giornali di oggi. Francesco Pira, c'è una brutta parola nel nostro vocabolario che è razzismo. Forse quelli che non si proclamano tali possibilmente temono, hanno quantomeno un po' paura. Alcuni temono addirittura che l'Europa possa diventare islamica. Le dichiarazioni del sindaco di Londra di poche ore fa dicono assolutamente questo, che l'Europa diventerà islamica, ci sarà una preponderanza di uomini di religione islamica. Ma il tema che io proverò ad affrontare è quello di come noi viviamo il fenomeno migrazione attraverso la percezione dei media. Anche un osservatorio importante come quello della Carta di Roma che doveva in qualche modo garantire i diritti di queste persone addirittura provando a chiamarli con il loro nome. Noi facciamo una confusione, una marmellata bestiale di nomi. Per esempio il rifugiato lo chiamiamo migrante, la persona che viene qui a cercare lavoro lo chiamiamo extracomunitario. Non riusciamo nemmeno dal punto di vista linguistico a riferire bene quello che deve essere invece il nostro modo di approcciare. Un tema che è un tema di grandissima attualità, un tema che è schiacciato tra tre macrotemi. Quello della globalizzazione, quello della crisi economica e quello del terrorismo internazionale.